I segnali che ti pensa, anche se non lo ammette, ma potrebbero essere anche il contrario, cioè tu pensi che lui ti pensi, ma invece a lui non gli è fotte una benemerita minchia. Questo dipende un po' dalle azioni che vengono fatte. La prima cosa che bisogna fare, diciamo, per capire se una persona è comunque coinvolta con te, intanto è definire un obiettivo, perché non esiste un coinvolgimento, come ho già detto tante volte, a priori. Cioè non esiste una relazione standard, non esiste un qualcosa di già completamente predefinito, anzi nel momento in cui noi vogliamo predefinire qualcosa, andremo naturalmente a, diciamo, cioè se noi vogliamo predefinire qualcosa a priori non raggiungeremo nessun risultato, perché noi dobbiamo sapere esattamente, chiaramente, quello che vogliamo ottenere. Sulla base di quello che vogliamo ottenere possiamo capire quanto è valida la nostra relazione, quanto è allineata con quello che cerchiamo. Questo è il primo punto. Ovviamente ci sono, oh, un saluto anche alla nostra Green Apple, ci sono anche dei segnali che noi possiamo osservare se la persona in qualche modo è coinvolta con noi, anche se non l'ammette, perché ci sono persone che hanno difficoltà, da un punto di vista logico e razionale, ad ammettere un coinvolgimento. Mentre ci sono persone che ammettono un coinvolgimento, ma poi non riescono a fare, diciamo, quello che vorrebbero fare, perché hanno dei meccanismi autosabotanti interni. Questi meccanismi autosabotanti interni sono delle parti nostre, interne, che, diciamo, si agganciano su delle gregore, delle forme pensiero negative, perché noi abbiamo anche dentro di noi delle gregore, delle forme pensiero che ci comandano. Sono le forme pensiero genitoriale, ad esempio. Le gregore genitoriali, come dicevamo, non so se avete visto un'intervista con Nadia, non si sentiva molto bene prima, però parlava di costellazioni familiari. Le costellazioni familiari, cioè il pensiero degli antenati, è un qualcosa che vive dentro di noi, è un qualcosa che ci governa e ci condiziona. Il pensiero degli antenati, che siano i nostri genitori o gli avi, in qualche modo è completamente vivo dentro di noi. Per cui noi siamo governati da tanti pensieri. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare quando vogliamo prendere una decisione è riappropriarci del nostro libero abituo. Niente nessuno ci deve dire che cosa dobbiamo fare, niente nessuno deve mettersi di mezzo alle nostre decisioni. Quindi la prima cosa che dovete fare è definire un obiettivo, portatelo avanti e fottetevene altamente di tutti gli altri. Soprattutto degli uccellacci del malaugurio, perché ci sono tanti uccelli del malaugurio. Tu apri un canale YouTube, ci sono subito quelli che ti dicono ma cosa lo apri ai 40 anni, ai 50 anni, oppure vuoi intraprendere un'attività, ci sono tutti quelli che gli uccelli del malaugurio. Saluto Andrea Giovani e vedo la prima domanda di Nadia Carloni. Massimo, cosa significa quando una persona parla di eventi passati e di suoi modi di essere e guarda davanti a sé come all'infinito? Beh, allora, il parlare di eventi passati è, diciamo, normalmente noi parliamo di ciò che temiamo, no? Quindi spesso chi parla di eventi passati teme che il passato possa riprendersi e rimanifestarsi nel presente. Difficilmente, se parliamo di eventi belli, di cose belle, ne parliamo a livello logico e razionale, perché normalmente il timore è quello del passato. Lo sguardo in avanti a sé è uno sguardo verso il futuro. Quindi sta dicendo analogicamente, sta dicendo logicamente quello che teme da un punto di vista analogico. Guardare davanti significa proiettare nel futuro. Quindi normalmente una comunicazione di questo genere sono paure, preoccupazioni, rammarichi. I rammarichi, cioè dolori profondi che possono manifestarsi o per rimpianti o per rimorsi. Cioè il rimpianto di non aver fatto nel passato qualcosa che avrebbe potuto, dovuto, voluto fare, oppure il rimorso di aver fatto nel passato qualcosa che non avrebbe dovuto, potuto, voluto fare. E invece l'ha fatto. Quindi i rimorsi e i rimpianti generano delle sofferenze. Queste sofferenze, questi rammarichi che abbiamo vissuto nel passato, siccome la nostra mente inconsapevole, la nostra mente inconscia non ha una cronologia temporale precisa, crede che possano manifestarsi ancora nel presente o addirittura nel futuro. Quindi i rimorsi, erano rimorsi infatti, ecco i rimorsi. Perché chi non ha rimorsi, chi non ha rimpianti, diciamo, guarda negli occhi la persona e parla del presente. Perché l'unico passato buono, diciamo così, come possiamo dire, è il passato di verdura. Tutti gli altri passati, in qualche modo, per qualunque motivo, vanno a contaminare il nostro presente. Beh, interagire positivamente in questo caso, il modo migliore per interagire positivamente in questo caso, è portarlo nel tempo presente. Ad esempio, potresti, che ne so, pestargli un piede. Gli pesti un piede, lo porti in un piede. Oppure, a livello proprio, adesso scherzavo per stare il piede, però a livello di comunicazione verbale, una carezza, una spinta, un qualcosa a livello non verbale, che lo porti nel tempo presente. Semplicemente fargli portare l'attenzione sul respiro, ad esempio. Perché quando una persona, vedi che è proiettata sul futuro, con lo sguardo all'infinito, è un atto cenestesico, un atto fisico, per portarlo nel presente. Beh, i rimorsi, il tradito nel passato, sì, i rimorsi, i rimpianti, insomma, qualunque cosa, i rimorsi, quindi, per aver fatto qualcosa che non avrei voluto fare. Ecco, allora, i rimorsi per aver tradito nel passato e la paura che anche oggi possa tradire. Diciamo così, perché se uno teme i rimorsi del passato, del tradimento del passato, oggi avrà paura di non riuscire a resistere, a tradire di nuovo. altrimenti non avrebbe più questi pensieri fondamentalmente. Quindi la paura, la paura è anche mista al desiderio, però paura e desiderio di poter tradire anche oggi. Cioè che quell'evento del passato possa rimanifestarsi in un presente futuro, fondamentalmente. Allora, bene, quindi abbiamo risposto alla prima domanda. Ricordo che chi volesse entrare in chat può semplicemente abbonarsi al canale e con un piccolo feed di ingresso può tranquillamente entrare in chat e farmi le domande. Visto che questo è una live domande e risposte, sarà una live abbastanza breve, insomma, perché ormai le live domande e risposte non faccio più live lunghe, faccio live brevi, però quindi avete possibilità di farmi domande. Intanto, quali sono i sei segnali che ti pensa, anche se non lo ammette? Beh, il primo è quando inizia a... Il primo livello è quello dell'orbiting. Quando inizia a fare orbiting, cioè a guardarti, a spiarti le foto nei social. Quando una persona in qualche modo ti spia le foto nei social, quando una persona... La moglie cosa che posso fare? Qui non è geloso. La moglie cosa che posso fare? Qui non è geloso. Beh, sì, essere la moglie, non so, adesso la moglie, però la gelosia non funziona. Esatto. Sì, direi che la strategia giusta è questa, Nadia, la strategia giusta, la strategia migliore è quella. Brava. Poi, ovviamente, anche tenere un po' col... diciamo, mettergli una spada di Damocle sulla testa, insomma, alla migliore. Sì, 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 non essere gelosa, ma, diciamo, non essere neanche poi totalmente disponibile, insomma. Ok. Quindi, la seconda strategia, cioè, il secondo segnale che, comunque, una persona ti pensa, anche se non la mette, è, paradossalmente, se ti scassa i coglioni. Cioè, se non può fare a meno di citarti, se non può fare a meno di menzionarti. Ci sono delle persone che ti rompono i coglioni, cioè, interagiscono, non vogliono interagire, ma interagiscono con te. Perché il loro pensiero è ipnoticamente portato su di te. Non possono farne a meno. Anche una persona che ti menziona, anche con altri, non importa, come diceva qualcuno, che parli bene, che parli male, se ne parla, significa che c'è un livello di coinvolgimento. La mancanza di coinvolgimento, invece, sta nell'assenza, nell'assenza della comunicazione. Una persona che vuole, o che manifesta, assenza di comunicazione, sia in positivo che in negativo, significa che, fondamentalmente, non gli frega più un cazzo di te. Questo è il concetto di fondo. Un saluto anche alla nostra Noemi Puglia. Quindi, questo secondo segnale è un altro segnale importante. Quindi, primo segnale, ti spia sui social, spia le tue foto, mette i like, non metti i like. Secondo segnale, parla di te agli amici, parla di te, ti menziona. Anche male, potrebbe dire che sei un figlio di mignotta o che sei una mignotta. Insomma, potrebbe dire tante cose, ma lo fa cercando di tartassare in qualunque momento. Altro segnale, diciamo così, questo avviene soprattutto al di fuori dei social, nell'offline, è quando comunque una persona te la trovi tra i coglioni, diciamo così, in tutto quello che fai. Vai in banca, te lo trovi fuori lì dalla banca, vai, che ne so, da qualche altra parte e ottieni sempre che questa persona è sempre, diciamo, presente. Ecco, quindi questo è un altro segnale che anche se non lo ammette comunque ti pensa, comunque c'è un collegamento. Ovviamente, cioè, dipende poi da quello che è il tuo obiettivo. Noi dobbiamo, come dicevo all'inizio, sempre definire un obiettivo, no? Perché il fatto che una persona ti pensi, una persona ti, diciamo in qualche modo, mentalmente si è coinvolto con te, non significa che questa potrebbe né essere la persona giusta né che ti convenga portare avanti una relazione. Dipende sempre dall'obiettivo, perché se noi non abbiamo chiaro un obiettivo in testa, come diceva Seneca, nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma, come dice Massimo Tramasco, tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Domanda, cosa significa analogicamente quando il tuo interlocutore si tiene il lobo di un orecchio mentre ti ascolta? Beh, il lobo dell'orecchio è affettività, quindi ti sta dicendo che ha mancanza carenze affettive. Se il lobo è quello sinistro significa che, diciamo, questa carenza affettiva è vincolata da un oggetto esterno, oh, grazie Ottavio, questa carenza affettiva è vincolata da un oggetto esterno e questo oggetto esterno è un oggetto sfuggente, quindi è per colpa di qualcun altro che lui non riesce a manifestare e a vivere tutto l'affetto che vorrebbe vivere. Mentre invece se l'orecchio è il destro è autoattributivo significa che sempre la persona si sta struggendo, si sta nutriendo di emozioni della carenza affettiva perché se noi se è vero il verso è vero anche l'inverso e il vincolo però è un vincolo interno, cioè la persona mette in atto dei meccanismi autosqualificanti che lo fanno inducono a pensare di lui di non meritarsi l'affetto che vorrebbe e quindi bisogna trattassarlo proprio andando ad amplificare questi vincoli questi blocchi quindi nel primo caso mano sinistra vincolo esterno nel secondo caso mano destra vincolo interno cioè il vincolo che cos'è? è quello che non ti permette di vivere l'affetto come tu vorresti vivere perché la mano diciamo sul lobo dell'orecchio è legata all'affettività che poi lo stia facendo in una particolare situazione quando ad esempio ti ascolta e se ti guarda vuol dire che tu potresti per qualche motivo aver innescato diciamo questa sua esigenza affettiva perché magari hai carezzato un cagnolino non lo so ci sono mille motivi però il concetto di fondo è questo qua che ti ho detto e stavo dicendo il terzo punto è proprio quello mi tocca l'orecchio il quarto punto è quello dove la persona inizia a interagire con te indirettamente nei social vediamo la domanda di Puglia quando sono agitate devo cazzare qualcuno cammina con una pazza gesticola beh perché quello è semplicemente un fattore di scarico di tensione molto forte il camminare è uno dei modi che utilizza la nostra mente e il nostro corpo per scaricare tensioni vuol dire che sei sovraccaica fai bene a scaricare anzi dovresti andare a correre dovresti muoverti ancora di più altrimenti ti comprimi dentro delle emozioni che poi potrebbero diventare autosabotanti ecco questo è un concetto abbastanza importante quindi quello che ha detto la nostra Noemi Puglia è un concetto abbastanza importante perché noi dobbiamo imparare comunque sempre a scaricare le emotività dobbiamo imparare comunque sempre a scaricare le tensioni dobbiamo comunque imparare sempre a gestire le nostre emozioni è veramente come dire una cosa buona e giusta imparare a gestire al meglio la propria emotività imparare a gestire al meglio la propria vita perché poi chi non gestisce le sue emozioni non gestisce la sua vita un altro punto dicevo è quando la persona inizia a fare orbiting e quando la persona inizia a mandarti dei suggerimenti nei social cerca di interagire con te direttamente questo è comunque un segnale ogni volta che la persona ti coinvolge o si coinvolge in qualcosa che tu fai ti manda dei segnali va a diciamo a spiarti attraverso i social è perché è in atto un tentativo di riavvicinamento anche il narcisista lo fa infatti andatevi a iscrivervi al nuovo canale che adesso Roxy Rosa posterà immediatamente il link del nuovo canale sul come liberarti dei narcisisti perché è molto importante imparare a liberarsi dai narcisisti imparare a farlo in tempo reale e imparare a farlo diciamo senza cadere nella trappola dei narcisisti fondamentalmente perché il narcisismo o i narcisisti in generale sono persone che possono anche essere molto molto seduttive becchia margassone in roxy rosa posta il link no questa non capisce niente è talmente anziana che non capisce mi devo postare io il link questa è talmente vecchia che non capisce allora postiamo il link liberati dai narcisisti perché quella è talmente vecchia che non capisce e allora posto io il link e me ne fotto allora quindi andatevi iscrivere al nuovo canale sui narcisisti andate a iscrivervi al nuovo canale sui narcisisti aspettate che vi posso alline questa questa è anziana è anziana non è in grado non è in grado iscriviti al mio nuovo canale allora non è ok è arrivata un'altra vecchia bene è arrivata un'altra vecchia la nostra aliena una vecchiona oh abbiamo Giorgio Camelia io sono il buco nero dell'anima dell'amore è vero è vero allora vediamo un attimino il mio ex è ricomparso grande Giorgio Cameli battito di ciglia allora vediamo chicca chicca il mio ex è ricomparso dicendo che non sono che non riesce a dimenticarmi c'è stato un breve scambio di idee gli ho detto che era finita e mi ha bloccato ma perché? beh perché questo è il caso tipico di uno che è narcisista brava un narcisista cosa fa? entra dentro per capire se c'è ancora potenziale e poi si sgancia istantaneamente questa è l'azione tipica del narcisista ci giocherei mezzo testicolo diciamo che questa persona è una persona che ha un comportamento perlomeno narcisista perché diciamo l'obiettivo è solo vedere come tu interagisci e lui diciamo in qualche modo non è che si è sganciato perché ha capito ha capito sicuramente delle cose su di te lo sgancio avviene perché ma si ripresenterà ogni tanto fare il giro delle sette chiese si ripresenterà perché il narcisista ha questa capacità se Pedro secondo me è ok lo presti tu va bene Giorgio Cameri tanto un saluto a Andrea Giovani rimanere oltre l'orizzonte degli eventi dei narcisisti esatto l'orizzonte degli eventi è il buco nero dove esatto il fatto che ti spiasse sui social è un altro comportamento tipico la persona che ti spia è ovvio che lui avrebbe sperato diciamo in una tua totale debuggle una tua totale arresa e allora il narcisista è forte quando dall'altra parte trova persone deboli ma è strutturalmente debole quando dall'altra parte trova persone forti questo è il concetto di fondo quindi tu hai fatto bene a farti vedere decisa ma devi farti vedere ancora più decisa in modo tale che la prossima volta che tornerà intanto riesce a capire quanto avrà come dire ridimensionato quelle che sono le sue aspettative quelle che sono le sue esigenze e dovrà iniziare a fare un percorso narcisista o non narcisista un percorso dove deve mettere delle energie per conquistarti perché è l'unico modo se vuoi conquistarlo ricorda la vazzetta del figlio di Polifemo ma papà perché c'è un occhio solo risposta il padre non mi stai a rompere una palla non mi stai a rompere la palla esatto esatto tenete presente questo che dicevo io come dire vabbè quando incontro una donna col doppio clitoride devi prendere dei provvedimenti comunque grande Giorgio Cameli ecco quindi bisogna renderci conto che comunque un'altra caratteristica che mettono in atto molte persone talvolta anche molti narcisisti perché i narcisisti sono bravissimi ad esempio nel mirroring nel ricalco nel saper ricalcare l'altra persona è attirare la tua attenzione cercando di imitare i tuoi gusti quando vedi che nei social nei post nelle cose che fa diciamo introduce diciamo delle cose che pensa ti possano agganciare beh questo ti fa capire da un lato che è coinvolto dall'altro che comunque sta utilizzando una strategia manipolativa una strategia che si tratta che si basa su quello che viene chiamata effettalone io ti aggancio su un punto che ad esempio quello di condividere i tuoi interessi le cose che ti interessano a te ma quel punto lì su cui tu hai agganciato poi si estende a tutta la relazione per cui tu giudicherai la relazione con me in modo diverso perché io ti ho amplificato uno dei punti uno dei punti di contatto che diciamo che poteva essere che poteva essere utile e interessante per te vediamo che lo dice il nostro Giorgio Cameli come sui dire testano l'acqua per capire su uno segnacinuo esatto esatto il narcisista ha proprio questa caratteristica di fare sempre il giro delle sette chiese fa sempre il giro delle sette chiese e beh come fanno a testare attraverso un messaggio attraverso quello che ha fatto lui con chicca chicca attraverso un incontro apparentemente casuale ci sono mille modi attraverso un incontro apparentemente casuale attraverso un messaggio se non c'è il blocco attraverso un commento ad un post insomma i modi sono infiniti ma l'obiettivo è semplicemente quello di diciamo o con piccoli innocenti sms sì messaggi whatsapp il motivo è sempre quello testare il potenziale che ha perché il narcisista ha la cosa che non tollera e non avere potenziale magari non gli frega un cazzo di quella persona ma inizierà a fregardene nel momento in cui deve cercare in qualche modo di attirarla deve cercare in qualche modo di conquistarla o di capire se c'è ancora potenziale di sapere se c'è ancora trippa per gatti perché quando il narcisista ha il dubbio che la trippa per gatti sia finita inizia a entrare nel panico inizia a entrare in depressione perché diciamo che il narcisista come mi sembra ha detto anche una volta a Giorgio Cameli è un po' un depresso antelitteram cioè impectore un depress impectore cioè porta dentro tutti i sintomi della depressione che va a evitarsi diventando narcisista ma diciamo di fatto è una persona insicura una persona dubbiosa una persona depressa appunto che proprio gira come un rullavuoto per cercare di abbattere questa sua condizione di profonda tristezza interiore però purtroppo lo fa danneggiando altre persone per questo motivo bisogna imparare a fuggire e insomma fottersene questo è un punto fondamentale il narcisista come dice Giorgio Cameli non si assume mai nessuna responsabilità non si assume mai nessuna responsabilità anche se è un qualcosa che dipende esattamente da lui la responsabilità la colpa è sempre di qualcun altro perché la vera abilità del narcisista è quello di incolpare gli altri e quindi dicevamo prima in generale comunque invece una persona che ti pensa cerca di attirare la tua attenzione ad esempio imitando i tuoi gusti imitando imitandoti facendo un ricalco questo ripeto non è che lo fanno solo i narcisisti ma lo fanno comunque anche i narcisisti altra caratteristica è quella che in qualche modo vuole impressionarti il 15 stato al mio compleanno mi ha scritto che non si era fatto vedere perché non voleva sbagliare ancora voleva riflettere ma non riusciva a stare senza di me che fesseria beh sì è una fesseria nel senso che ha fatto tutto un giro di parole ma se una persona è coinvolta in qualche modo si manifesta più o meno insomma almeno si manifesta virtualmente se non può farlo di persona una manifestazione virtuale costante continua per riprendere un dialogo o per costruire un dialogo se quella era la parte che mancava perché altrimenti diciamo vuol dire che non c'è la voglia di costruire qualcosa perché comunque intessere anche un dialogo con una persona che può essere una conoscenza di nuovo o per gettare nuove basi per una relazione può anche essere importante quindi magari derivare a un incontro se invece l'esigenza è subito dell'incontro io diffiderei un po' perché una persona che ha già dato segnali di questo genere in tuoi confronti beh non è detto che non rimetti in atto delle strategie abbastanza negative in tuoi confronti beh cosa vuole se fosse un narcisista vorrebbe semplicemente il controllo della situazione non è che c'è un volere dipende poi dalla tipologia ma normalmente diciamo un narcisista che si pone in questo modo vuole il controllo vuole poter gestire la vita dell'altra persona proprio per per quale motivo uno dice dirà per quale motivo per un come possiamo dire un l'esigenza l'esigenza una soddisfazione personale di avere il controllo su altre persone nulla più le manifestazioni virtuali sì le manifestazioni virtuali sono anche false ovvio che se uno manda un cuoricino e basta sì ma magari se ci sono distanze potrebbe instaurarsi un dialogo telefonico un comunque un dedicare energia all'altra persona è ovvio che se siete vicini di casa l'incontro è più facile ma ci fossero distanze creare un dialogo creare voler conoscere veramente l'altra persona è molto importante non è che siano perennemente depressi il narcisista può passare anche in una fase maniacale può passare da fasi maniacali a fasi depressive maniaco-depressive diciamo così il narcisista è un po' un ruolo che gira a vuoto non è un po' la corsa del criceto il criceto che corre e che resta sempre fermo perché non si rende conto che sulla gabbia ho la corsa del topo la corsa del criceto e sei sempre lì che gira e non vai da nessuna parte un'altra caratteristica tornando al discorso di prima dei sei segnali di una persona che ti pensa ma che non l'ammette è che in qualche modo ti vuole impressionare in qualche modo vuole manifestare che è più forte più bello più grande degli altri esatto tra sentirsi di e sentirsi una nullità ecco quindi questi sono sei segnali che tu devi imparare a cogliere perché se ci sono significa che comunque questa persona in qualche modo è coinvolta con te significa che in qualche modo è del potenziale ora avere del potenziale non significa aver conquistato nessuno ma significa poter imparare poter gestire questo potenziale per farlo crescere sviluppare e migliorarlo ecco quindi questo è più o meno quello che volevo dire quindi ricordo di iscriverti al canale